La scuola che dice, come prima, ovviamente classe, che dice La prima D della Pascoli! La prima D della Pascoli! La prima D della Pascoli! La classe totale vince questo trofeo che rappresenta il nostro James Fox Il presidente c'è, non c'è Ma dovete dire, c'erano ovviamente i nostri docenti No, no, venite! Venite a festeggiare con i vostri ragazzi, hanno vinto! I suoi alunni! Eccolo qua! Facciamo una foto ovviamente ufficiale con... Esatto! Allora, guardate, sorridete? Vi siete divertiti? Sì! Sì! Sono stanchi qui loro! Sì, forte! Allora, ecco, consegnano questo... Questo poi verrà consegnato personalizzato, eh! Quindi è il sindaco... Che consegna... Che consegna... Che consegna... Alla signora, l'altro diamo questo per... Questo poi ce lo consegnate perché lo dobbiamo personalizzare! Ecco qui, prego! Ok!